Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovissimo video. Eccoci qui finalmente tornati e sì, era un po' che non postavo un video, però oggi sono qui per darvi dei consigli su come organizzare al meglio i compiti per queste vacanze di Natale. Allora, intanto scusate tantissimo l'assenza, però l'università mi ha veramente preso tantissimi giorni, soprattutto perché ci avevano messo il tutorato lunedì e poi ci hanno fatto due volte di fila i recuperi il mercoledì pomeriggio, quindi rientravo sempre tardi e poi dovevo studiare come una pazza perché tra poco ho gli esami e devo tenermi in pari, però adesso ho finito le lezioni, quindi diciamo che dovrò studiare tantissimo a casa, però appunto sarà un po' più presente perché per un bel po' non ricominciano ancora le lezioni, dato che c'è la sessione di esame a gennaio che si protrae fino a fine febbraio con tutti i vari appelli e quindi diciamo sarà un pochino più presente e il video diciamo sarà molto più probabile che li caricherò. Comunque praticamente adesso ci sono le vacanze di Natale che non sono proprio vacanze per me perché dovrò comunque studiare come una matta dato che il mio primo esame sarà praticamente il 7 gennaio, però per voi che ancora andate magari alle superiori appunto avete queste due settimane, barra due settimane e mezzo di vacanza per rilassarvi e per appunto fare i compiti per le verifiche che ci saranno quando ritornerete a scuola. Quindi sono qui per darvi dei consigli su come organizzare al meglio questi compiti in modo tale da non dover fare le corse e in modo tale anche da poter fare tutto piano piano e con calma e ritornare a scuola belli carichi, motivati e con tutto fatto e pronti per ricominciare il secondo quadrimestre, il pentamestre o quello che sarà. Quindi fatta questa premessa, commentate intanto se volete qualche aggiornamento o qualche informazione in più su come si svolgiano i miei appelli dell'università, insomma per spiegarvi qualcosa, commentate e fatemi sapere se vi può interessare qualcosa del genere e poi mi raccomando seguitemi su Instagram, mi posto sempre tutti gli aggiornamenti e tutte le varie informazioni che riguardano post, video eccetera e ci sono anche sondaggi riguardanti appunti video, quindi se volete una determinata cosa o se ne volete un'altra, comunque seguitemi mi raccomando per non perdervi tutti gli aggiornamenti e diventare anche partecipi perché vi chiedo spesso a voi che video volete e quindi siete voi alla fine che decidete o anche post che siano, quindi mi raccomando e inoltre accettate la campanellina per non perdervi un mio futuro video perché purtroppo diciamo che mi dite spesso che non vi appaiono i miei video come anche i post quindi alzinate le notifiche così non vi perdete niente nuovo video ogni venerdì alle 14 oppure ogni sabato alle 14 dipende un po' da come vanno le cose però comunque tra venerdì e sabato esce sempre un nuovo video quindi non perdervelo comunque fatta questa lunghissima premessa e spiegatevi le cose direi che possiamo partire allora primo consiglio scrivervi da qualche parte su un foglio, su un quaderno o su un quadernino apposta, insomma dove volete stilare una lista con tutte le cose che dovete fare divisa per materia, quindi ad esempio per italiano devo fare questo, questo, questo per filosofia questo, questo, questo e così via in modo da avere diciamo tutti i compiti che dovete fare in un unico foglio, in un unico quaderno e tutti insieme e potete vedere la mole quindi il quantitativo di lavoro che voi dovete fare e che dovete portare a termine perché comunque alla fine vi servono per le verifiche compiti se ve li correggono, sono cose che appunto dovete fare e è meglio per voi che le facciate perché questo vi aiuta moltissimo perché dopo capirete meglio gli argomenti e andrete meglio quindi stilatevi delle liste divise per materia con tutte le cose che dovete fare sia cose che dovete leggere, sia cose che dovete studiare, sia compiti scritti quindi metteteci tutto e tenetevela a portata di mano perché questa vi servirà poi durante l'organizzazione perché infatti il punto 2 è quello di praticamente prendere un calendario settimanale che secondo me è la cosa migliore perché vi dà più visuale e vedete meglio le cose o comunque fatelo come preferite perché questi alla fine sono consigli un po' generali che voi adatterete alla vostra sensibilità comunque prendetevi un calendario mensile, settimanale, giornale che sia e guardate quanti giorni effettivi avete diciamo di vacanza quindi la scuola magari finisce il 20, rientrate il 7 e voi dal 20 al 7 avete tutti questi giorni per poter fare le cose e ovviamente quando calcolate questi giorni calcolate anche i giorni in cui sapete che non farete niente ad esempio giustamente a Natale a Santo Stefano magari non fate niente giustamente anche io non farò niente questi giorni però tutti gli altri studierò perché devo fare degli esami molto pesanti comunque diciamo che vi lascerete 2-3 giorni dove non farete niente potete appunto pensare alla vigilia e magari Natale oppure Natale il giorno dopo oppure dalla vigilia fino al giorno dopo Natale oppure l'ultimo dell'anno insomma guardate quei giorni in cui siete sicuri che non farete niente così in modo tale da eliminarli perché che ne so esempio a caso avete 15 giorni di vacanza però non è che tutti i 15 giorni studiate giustamente ma magari 2-3 giorni ve li concedete e vi rilassate e non fate niente quindi questi 15 giorni se ve ne togliete 3 da 15 diventano appunto 12 quindi avete 12 giorni per fare le cose però dovete tenerlo in conto perché magari voi pensate di fare delle cose poi dopo arriva quel giorno e non le fate quindi mi raccomando tenere in conto anche i giorni in cui sapete di non fare assolutamente niente e vedere quali sono i giorni effettivi in cui farete le cose passo numero 3 cercare di dividere in modo più ampio possibile le cose che voi dovete fare ovvero se dovete studiare certi capitoli non ve li lasciate tutti in fondo perché altrimenti li siamo punti a capo e l'organizzazione non serve a niente se dovete studiare esempio 3 capitoli dividetevelo in questi vari giorni sia che siano capitoli di storia o di filosofia cercate di dividerveli equamente perché ovviamente fare magari 4 pagine al giorno per una settimana è molto meglio che fare 30 pagine circa tutte in uno giorno e tutte in una volta sia non vi rimangono molto bene impresse e non percepite molto bene magari il significato o non capite il senso e dividerle quindi pezzettino per pezzettino vi permette meglio di concentrarvi di farlo diciamo in modo più vogliato perché sicuramente fare 4 pagine al giorno non sono tantissime quindi vi potete concentrare su queste pagine capirle bene, ripeterle e saperle e arrivare in fondo avendole tutte fatte e ricordandovele quindi cercate di dividervi sia lo studio sia i compiti scritti in modo equo da poter fare piccoli pezzettini alla volta senza strafare e senza mettere tutto insieme all'ultimo perché così vi aiuta a fare tutte le cose le fate sicuramente tutte, le fate con calma le capite soprattutto e state anche più tranquilli quarto consiglio allora quando fate appunto queste cose di dividerle ovviamente dovete anche cercare di vedere se ve le ricordate e se effettivamente avete capito quindi se fate ad esempio 4 pagine di un certo capitolo e fate i vostri schemi e tutte le cose cercate magari di ripeterle o comunque di fare una mini mappa concettuale con delle parole chiave se vi interessa sapere alcuni trucchi barra consigli per studiare materie scientifiche e materie umanistiche vi lascio il mio instagram qua sotto in descrizione mi raccomando andatemi a cercare perché ho fatto, ho questa rubrica dove vi do dei consigli sullo studio e ho fatto anche consigli su come studiare materie umanistiche e materie scientifiche quindi questo magari vi può essere di aiuto per questo quarto consiglio per riuscire a vedere questi consigli in un quadro un po' più largo e ragionarci meglio e ovviamente se avete domande chiedermele e ho fatto anche un post su come fare un ripasso veloce prima di un compito quindi se avete qualsiasi tipo di domanda andate a vedere quel post e oppure scrivetemi ovviamente comunque praticamente quando ci fate queste pagine fatevi una mini mappa o cercate di ripeterle per vedere se avete capito perché altrimenti è un po' inutile farle passivamente senza capirle perché alla fine vi ritrovate in fondo e non vi ricordate niente quindi sì, fare un pochino alla volta però diciamo fermare i concetti nella vostra testa e vederli aver capito così quando arrivate in fondo che magari rientrate e avete subito la verifica siete pronti e le avete ripetute il giorno prima le riguardate tutte cercate di ripetere, farvi delle mappine per vedere se riuscite a collegare i concetti eccetera però siete pronti e avete fatto tutto poi ultimo consiglio quindi il quinto consiglio è quello comunque di non strafare perché alla fine sono le vacanze io parlo diciamo per le persone delle superiori o comunque scuola media alla fine queste sono vacanze quindi sì, è importante fare i compiti eccetera però è anche importante diciamo darsi dei limiti perché giustamente è importante farli perché vi servono, perché ve le chiedono però essendo anche vacanze sono fatta apposta per rilassarvi e riposarvi la mente quindi quando appunto programmate le vostre cose contate anche i giorni in cui sapete che non farete niente e mi raccomando se pensate no ma a me non mi interessa se voglio studiare tutti i giorni assolutamente no perché è la cosa più sbagliata di tutte perché vi fa andare un po' anche in panico e vi dice mio dio devo fare tutte queste cose no, concedetevi almeno due o tre giorni dove non fate niente e vi rilassate perché vi serve e quando vi dividete le cose infatti questa divisione è fatta in modo tale da potervi far fare tutte le cose però in modo meno pesante che magari farle tutti gli ultimi cinque giorni fate un pochino alla volta per riuscire a fare meglio e non strissarvi troppo perché comunque anche quando ve li dividete non datevi dei carichi troppo pesanti magari dite ok studio tutta la mattinata studio un pochino pomeriggio poi il pomeriggio me lo lascio libero oppure studio solo la mattina e mi lascio pomeriggio libero studio tanto il pomeriggio o la sera cioè dovete dividervi in base a quando voi siete più attive perché ad esempio io sono molto più attiva la mattina fa anche un po' di ma prova sono più attiva la mattina quindi faccio più cose quando è mattina il pomeriggio magari tendo un po' a rimandare o comunque a fare le cose con molta meno voglia quindi magari mettetevi più cose da fare o le cose un po' più difficili nel momento in cui sapete che voi siete più attivi e che avete voglia di fare che appunto può essere mattina, pomeriggio, sera questo dipende tutto da voi io per esempio faccio tanto la mattina ma la sera proprio scondetto il cervello e non ce la faccio invece sono i miei amici che fanno molto di più la sera e magari non fanno niente la mattina quindi questo dipende da voi però quando vi date dei carichi non stressatevi troppo e cercate di dividirvi le cose mettete le cose più difficili nei momenti in cui siete magari più attivi e più reattivi e le cose un po' più tranquille magari nei momenti in cui fate un po' più fatica o preferireste non fare niente però comunque cercate di darmi un pochino di voglia e motivatevi a fare queste cose perché è giusto concedersi delle pause perché ci servono però è anche importante mantenere una certa routine perché altrimenti quando rientrate non avete più voglia di fare niente però se vi dividete le cose e vi portate avanti piano piano tutto e ve lo dividete in modo ottimale riuscite a ottenere un buon risultato e a ritornare motivati con tutte le cose pronte senza esservi stressati troppo quindi allora spero di essermi spiegata bene questi erano i consigli spero soprattutto che vi possano essere utili e se avete ovviamente qualsiasi tipo di domanda non esitate a commentare qua sotto a mandarmi un'email a scrivermi su Instagram o sulla pagina di Facebook dove volete è tutto qua sotto in descrizione mi raccomando inoltre fatemi sapere qua sotto nei commenti che altri video vorreste vedere sia che riguardo diciamo la parte organizzativa studio, cancelleria sia qualsiasi altro video che può essere make up oppure challenge video tag qualsiasi cosa commentate e fatemi sapere tra poco poi appunto è Natale quindi arriverà il video dei regali di Natale ovviamente perché anche questo è un appuntamento fisso e ve lo porterò sicuramente sia perché è uno dei video che vi piace di più perché lo vedo anche dai commenti delle visualizzazioni e vedo che vi piace tanto sia perché anche a me piace farlo e vederlo quindi ve lo porterò e da quel video potrete vedere perché alcuni regali diciamo che me li sono spoilerati nel senso che le ho detti io un po' a mia mamma però alcune cose non le so alcune cose le so però per alcune cose che so non vedo l'ora di portarvi appunto nuovi contenuti nuovi video nuovi post su Instagram quindi mi raccomando iscrivetevi asserate le notifiche commentate e fatemi sapere e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao